Sono le 8 e 13 in questo istante, inizia la seconda parte di Good Morning Milano e inizia con la nostra ospite di oggi che è Giovanna Borella, ma tutti la conoscono come Mr. Joe. Buongiorno Joe! Good morning, buongiorno a tutti, eccomi qua. Eccola qui, allora Giovanna sono contentissimo di venire averti qui, io un bel po' che non ci vedevamo, era tanto, era tanto. È vero. Ma facevamo i conti che praticamente ci siamo visti forse la prima volta una decina di anni fa oramai. Esatto, esatto, concordo. Quasi dieci anni fa, se non sarà fra due mesi sarà tra poco. Ecco, anzi, come si dice nel mondo del calcio, non dieci anni fa, dieci stagioni fa. Dieci stagioni fa, esatto. E perché sei qui oggi? Perché le tue attività nel mondo del calcio femminile non si fermano mai, ma per quei pochi distratti che in questi dieci anni hanno guardato altro, non so cosa. Ricordiamo un attimino cosa tu ti sei messa in testa appunto dieci anni fa e cosa stai continuando a fare da dieci anni. Avevi la testa nel pallone, mi verrebbe da dire, no? Da quando sono nata. Ho fatto sempre la mia scuola calcio SD, bimbe nel pallone, scuola calcio femminile Nolo, perché sto a Nolo e mi occupo in quella zona di far giocare da bambine piccole di tre anni fino a donne, mamme, donne, adulte. Ricordo che giocare a calcio, ecco, che è importante. Ecco, giocare a calcio, che è importante, quel giocare soprattutto, nel senso che non è… Anche perché, adesso poi lo capiremo meglio, quello che magari per noi maschietti è scontato, cioè io posso scegliere di andare a giocare a calcio o no, e avere una pletora di squadre cui scegliere quella più bella, quella meno bella, quella più blasonata, quella meno blasonata, quella più costosa, quella meno costosa, non è così per una bambina di quattro anni ad esempio. Esatto, non è ancora così, nonostante la famosa frase il calcio femminile sta crescendo, è vero, è vero, sta crescendo, sta crescendo il numero, lo vedo a differenza sulle spiagge, mamme e bambine che giocano insieme con la mamma, ma rimane il problema drammatico, più grosso, lo spazio e il rispetto per un'associazione, società sportiva femminile. Al momento della richiesta dello spazio non vieni considerato come una società maschile. Perché quelle squadre che conosciamo abbastanza bene, che abbiamo imparato a conoscere in questi anni, siamo andati anche all'arena civica a vederle giocare, siamo stati anche allo stadio di San Siro a vederle giocare, un Milan-Juve, mi ricordo se non ricordo male, però appunto sono emanazioni delle squadre maschili che vanno, anzi, diciamo, costrette dalla regola nuova della FIGC ad avere una squadra in Serie A, giusto se non ricordo male. Esatto, è stato un obbligo, diciamo, come poi nelle piccole associazioni quella di avere anche loro una figura di squadra femminile, però ripeto, proprio un obbligo, però non viene spontaneo quello di dire, ok, se è una società sportiva femminile, hai bisogno, il tuo spazio, è utile che lo dico, lo spazio. Ma esistono società sportive solamente femminili? Sì, 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 esistono. E hanno difficoltà, però, appunto, come dicevi. E hanno difficoltà, però, diciamo, esistono molto di più fuori Milano, Cinisello, Bresso, nell'Interland, ecco, diciamo. A Milano io penso di essere ancora l'unica che fa Fustal. Fustal, che cos'è il Fustal, ricordiamo, per chi magari è meno... Esatto, abbiamo il famoso calcetto, calcio a 5, che puoi giocarlo, di solito, nelle tensostrutture, nei vecchi campi da tennis, ecco. Qui in tennis, ok, che adesso però non ci sono più perché sono pieni di campi da padel. Esatto. Anche questo, cioè, la guerra tra gli sport è sempre pazzesca, cioè c'è un momento della pallavolo che devi litigare col basket, poi c'è del tennis che litiga col padel, e tra tutte queste, quella che litiga praticamente con tutti o meglio, che viene lasciata un po' da parte, appunto, è magari neanche il calcetto a 5 femminile, che comunque, appunto, ha difficoltà nel trovare gli spazi. La cosa bella di Bimbe nel pallone è che tu l'hai chiamato Bimbe, hai iniziato ovviamente, dicevi prima, dai tre anni in su, praticamente, ma il tuo cavallo di battaglia, diciamolo, è una squadra invece di mamme, giusto? Esatto, esatto. Perché, giustamente, anche lì è importante, io penso, quanti di voi, bambini, maschi, soprattutto, perché come dicevi giustamente tu prima, hanno fatto, fanno ancora il boom, quanti avete chiesto alla vostra mamma che vi porta i borsoni, vi lava le scarpe, ma mamma, ma tu non vorresti giocare un pochino a calcio, o con me, o comunque magari giocare a calcio? Questa è una domanda importante che mi sono fatta e, soprattutto, dare spazio a mamme e donne per giocare Bimbe nel pallone quasi ormai dieci anni fa, perché nel 2025 faremo i dieci anni di associazione, funziona ancora, con alti e bassi, ovviamente, ma funziona. E allora, questi alti e bassi, adesso li andremo a scoprire meglio, appena rientriamo dopo la prossima canzone, perché c'è tanto da dire, ma soprattutto adesso voglio capire bene questo discorso degli spazi, perché questa cosa degli spazi l'ho sentito fare dalle società più piccole di roller derby, dalle società di pattinaggio, cioè, veramente, c'è un grosso problema di spazi. E ovviamente, anche in questo caso, per giocare, le tue società hanno bisogno di spazi e trovare degli spazi consoni e, soprattutto, anche in linea con quello che poi è, quello che è andata a fare, ricordiamo, non siete società professionistiche, stiamo parlando di sport dilettantistico, insomma, è importante anche dividere le due cose. Un po' di musica e poi torniamo sempre qui con Mr. Joe, Joanna Borella, qui a Good Morning Milano. E questi con i Simple Minds, con Don't You Forget About Me, dal 1985, invece, dal 2015. E fino ad oggi, invece, Mr. Joe, con Bimbe nel pallone. Giovanna, tu, appunto, diciamo prima, ci sono varie squadre, no, che sono all'interno del mondo, della sfera di Bimbe nel pallone. Ci sono la squadra delle mamme, che è proprio quella classica, diciamo. Poi ci sono le Nollers Junior, giusto? Esatto. Ok. La Nollers FC Woman, che, diciamo, è quella un po' più strutturata, ma adesso è data questa nuova squadra, che si chiama Nollers Game. Esatto. Che differenza c'è e chi sono? Ma allora, la differenza è, diciamo, l'età va sempre da maggiorenne affinché le gambe non mi reggono in piedi, che è il mio motto. È importante aver voglia di giocare, sempre la parola di prima. La differenza è che quest'anno proviamo a fare un mini torneo. Ok. E finalmente, una cosa importante, abbiamo un portiere, addirittura ne ho due, che nelle file di Bimbe nel pallone è una cosa che è sempre mancata, perché come sai è un ruolo, ancora al giorno d'oggi, che è un po' difficile, che qualcuno, soprattutto magari nelle donne, dici chi è che vuole fare il portiere. No, perché guarda, io sono degli anni Ottanta, no? Per noi, ad esempio, c'era la corsa a fare il portiere perché c'era Walter Zenga, allora c'era il mito e quindi, oh, voglio fare Walter Zenga, no? O Zoff, o Zoff, però effettivamente se anche lì non hai dei punti di riferimento, è complicata questa cosa qua, cioè, oh, voglio fare l'attaccante, e molto probabilmente anche, magari le ragazze dicono voglio fare Messi, però comunque non è che dicono voglio fare lui, infatti, no? Ma forse adesso donna Roma qualcuno. Ah, vedi, vedi. Però ancora a me non è capitato. Ecco, vedi, vedi, vedi. Però diciamo, la differenza è un po' questa, è lanciare anche sì il gioco, come parlavamo prima, ma anche cercare di fare anche un mini torneo, ma sempre con la parola di divertirsi, di stare bene, senza ansia, e soprattutto queste knowledge games, essendo ragazze, donne che comunque lavorano, chi ha famiglia, non vogliamo fare dei tornei durante la settimana, durante il weekend, ma farlo durante la settimana con un allenamento e una partita. Perché giustamente hanno le loro vite, no? Sono spesso mamme, sono spesso adulti, che magari potrebbero fare altre cose. Compreso il mister. Compreso il mister, infatti, nel senso che anche il mister poi... Beh, anche perché il mister mi sa quante altre squadre già che deve stare dietro poi, no? Anche quello, no? Perché parliamo però di questa squadra? Perché attualmente è la squadra un po' orfanella di un luogo, no? Nel senso che, in realtà poi alla fine l'hai trovato. Alla fine... Però dove l'hai trovato? E appunto, avendo questo, io lo chiamo il Triangolo di Milano, tra Milano e Bresso, che ringrazio tanto il Paolo Conte, che è il presidente delle Bresso Woman, e che ci contavamo sulle dita, su queste poche squadre che giocano a calcio femminile a livello dilettantistico, e mi ha detto, guarda, io ti posso dare una mano, ci uniamo, e avendo appunto io un grosso problema di strutture, sappiamo che sull'Interlanda gli spazi sono molto più ampi. Poi mi dice anche lui ha le sue fatiche, ma ovviamente si parla di numeri molto più alti. Io arrivo a 40, massimo 45 iscritte, qui si parla di 150 e oltre persone. Quindi mi ha dato un aiuto proprio perché io facendo Fustal, come dicevamo prima, calcetto, capisco che poi magari qualche ragazzina, donna, ragazza, voglia provare anche un calcio a 9, un calcio a 7, a giorno d'oggi se ne inventano di tutte, quindi anche un calcio a 11, cosa che io non posso offrire, ma mi rimane diciamo sempre una mia calciatrice che però va ad allenarsi a Bresso. E lì è finita le Nolers Game, che dovrebbero stare a Nolo. A Nolo si chiama Nolos Game. Ma sono a Bresso perché... Nolo tra parentesi Bresso Game diventa... Bresso Games sono lì perché c'è proprio una questione di spazi. Di spazi. E verrebbe però sempre... Fa sorridere questa cosa, sempre fa sorridere, ma il mister Joe fa un po' meno sorridere. Il fatto è che appunto una città con un milione e 400 mila abitanti, con una cifra di società sportive e tutto, non abbia veramente lo spazio per delle ragazze che giocano a Fustal. Esatto, soprattutto in una città che sta per ospitare le Olimpiadi. Ricordiamo questo particolare importante e non si trovano degli spazi. Tu, conoscendoti, sono già sicuro che la risposta è sì, si è andata praticamente a citofonare a ogni porta che esista a Milano, giusto? Esatto. E perché la risposta è che non ci sono spazi? Qual è la motivazione? In palestra ce ne sono, c'è così tante società sportive, come mai non ci sono spazi? Non ci sono spazi perché, vabbè, come dicevo prima, sono un'associazione piccola. Ancora non c'è rispetto e la fiducia su una donna che vuole mettere su una scuola a calcio, che ormai, ripeto, è da dieci anni, che lotto. Mi sento un po' da un chisciotte, ma sono contenta. E' proprio questo, ancora un po' sconosciuta questa scuola a calcio, perché in realtà dà la possibilità davvero a tutte di giocare. E allora lo capiamo meglio, anche dopo la prossima canzone, piccola pubblicità e poi canzone, perché poi, se volete, potete approfondire anche con un libro, giusto? C'è anche un libro che il Minister Gioca ha scritto. E quindi potete scoprire ancora meglio la storia delle bimbe nel pallone insieme a Gianna Borella, qui su Crystal Radio. Good morning, Milano! Achille Lauro, amore disperato alle 8.36 minuti. Come disperata è la ricerca di uno spazio di Mister Gio, vero Giovanna? Siamo disperati qua, dobbiamo trovare per forza, anzi facciamo un appello a chi ci sta ascoltando, se sa di qualche situazione in cui potrebbe saltar fuori un bello spazio per il calcio a 5, per le Nollors Game, insomma, Nollors Game, insomma, no? Contattare Giovanna, come si dice in questi casi. Citofono Giovanna. Esatto, Mister Gio, se volete. Ecco, Mister Gio, Mister Gio che è anche autrice di un libro, che ormai è un paio d'anni, che possiamo avere la possibilità, scusate il gioco di parole, di leggere e che racconta la tua storia, o meglio, la storia delle tue bimbe nel pallone. Esatto, alternata dalla mia storia, hai detto giusto. Il libro si chiama Le ragazze di Mister Gio. Non c'entra niente col pallone, ma la tua storia ha un primato, vero? Ricordiamolo velocemente, questo primato che tu hai. La prima adozione internazionale in Italia. Ecco, cioè... Nel 1967. 67? 66. Nel 1967 Giovanna è stata la prima bambina, Gianni Il Pallone? Gianni Il Pallone. Gianni Il Pallone all'epoca, che ha usufruito della legge sulle adozioni internazionali in Italia. Esatto, poi il resto lo leggete nel libro. Ecco, va bene. Ma il resto racconta poi anche delle altre bimbe nel pallone, giusto? Esatto, esatto. Il libro nasce proprio nel periodo del Covid, dove penso di essere stata l'unica che ha proposto la dad del calcio, nel mio caso, perché essendo nel calcio, perché come sapete bene, per due o tre anni i ragazzi, i bambini, i nostri giovani, non hanno fatto mai attività fisica, che è importante, è molto importante. Allora io in quel momento collaboravo con la scuola Casa del Sole nel parco Trottere Nolo, dove vivo, dove sono cresciuti i miei figli, dove sono cresciuta io, mi ha fatto crescere anche come scuola calcio, e quindi giustamente le Nolers Game e tutte le altre devono rimanere nel Nolo. Allora cosa è successo? C'era Stefania Carini, che è una giornalista, che vive anche lei nel Nolo, e gli hanno dato questo incarico di trovare qualcuno che portasse avanti delle attività, nonostante questa situazione pesante. E parecchi gli hanno detto, ma contatta Mr. Joe. Allora ci siamo sentite, mi ha iniziato a fare un po' in questa intervista, gli ho raccontato della dad, della mia adozione, e lei, siccome appunto ha un suo blog, Effetti personali, dove a un certo punto l'ha visto Mario Calabresi, e Mario Calabresi ha detto, ma bellissima storia, ovviamente l'ha diffusa anche lui, avendo mille contatti più di me, siamo arrivati a Mondadori ragazzi, che hanno fatto il libro, hanno messo in distribuzione il libro, nel quale poi abbiamo vinto proprio il premio Gianni Mura, che sapete chi non lo conosce, è stato un grande giornalista in Italia di sport, ed è un premio importante, perché è stato deciso, soprattutto da due anni fa, è stato aperto proprio la votazione anche ai ragazzi, e quindi è stato bellissimo, anche tutta la conseguenza, di incontrare i ragazzi che l'avevano letto. Cosa ti dicono appunto? Prima di tutto ci dà la notizia, che i ragazzi leggono i libri, che già questa è una bella notizia, nel senso che comunque, qui si dice che nessuno legge, e invece molto probabilmente sembra, da quello che, anzi alcuni dati ultimi usciti danno, che in realtà, sì, siamo noi vecchietti che non leggono, ma in realtà i giovani stanno ritornando a leggere, no? Esatto. E hanno ritornato a leggere anche i libri interessanti, come con l'appunto di Mr. Joe. Cosa dicono quando poi ti incontrano? Ma è molto bello, sono stati tanti incontri, le ho fatti, anche lì un po' mi è dispiaciuto, che anche a Milano non c'è stata questa grande occasione, ma sono stata, ultimamente sono andata a Bono, che è un paesino, in provincia di Sassari, ma ho invitato in Sardegna per il Festival del Libro, sono andata al libro, quello di Torino, al Salone del Libro, sono andata a un po' di posti in giro nell'Interland, il Mr. Joe on tour abbiamo fatto, giusto? Esatto, mi piacerebbe che fosse un po' più lanciato, anche a Milano, perché appunto è un libro... E ci sono le bimbe che lo leggono? Cosa dicono le bimbe quando lo leggono? Ci sono delle bimbe che l'hanno letto, è divertente, perché ovviamente, essendo la storia anche delle mie squadre, dei miei corsi, non potevo mettere giustamente il nome di Alessandra, era davvero Alessandra, allora era interessante vedere, vengono da me, ma Mr. io sono... non ci sono, ma perché non mi hai messo... non posso mettere esattamente il tuo nome, ma leggendolo, io mi auguro che tu possa vedere in Francesca, una ragazza come te, quindi è bellissimo che si raffigurano in certi personaggi, che come dicevamo prima, non ci sono ancora molte figure femminili di riferimento, quelle bambine, quelle calciatrici. Tu, appunto, che hai tutti i giorni a che fare, ci sono ormai, cominciano ad esserci qualche figura o ancora niente? Perché qualcuno ogni tanto salta fuori sui giornali? Esatto, no, ancora pochini, perché quando io dico, non so, una Sara Gama... Pensavo proprio a lei, pensavo. Esatto, che è un personaggio molto importante, che se mi sente, spero che la saluto direttamente, e non ancora molto diffuso, sì, un po' la Girelli, iniziano ad essere, però non come dicevamo prima, un Donnarumma, un Nessi, quindi anche questo, è una parte che deve un po' crescere, a dare un po' di figure. Quindi da una parte, diciamo che mancano dei punti di riferimento femminili, per il calcio femminile, nel senso che ci sono, si fanno un mazzo tanto, ma fanno fatica a emergere, perché poi dopo in realtà, quando poi si vedono, si conoscono e si incontrano, ad esempio una Sara Gama, cioè ti svolta la giornata, quando poi la incontri e la senti parlare. Poi mancano, credo anche, diciamo, la struttura spesso e volentieri, nel senso che appunto, a parte gli spazi, le società comunque sono poche, fanno una fatica, come ad esempio dicevi, il tuo amico del Bresso, che fa una fatica pazzesca, comunque credo, tenere in piedi una società di calcio femminile, giusto? Assolutamente, assolutamente, ha il vantaggio, in più di me, di avere un oratorio, un po' più accogliente, che qui ancora non troviamo. Però niente molto di più, e in più penso anche, a un livello di preparazione, dei mister, dei vari mister giochi che ci sono, insomma, anche lì è difficile, perché come si diventa, allenatrice o allenatore di calcio femminile? Eh, devi fare il corso di allenatore, poi io ho fatto come scelta, il CSI, però ovviamente c'è la FIGC, e... Ma hai fatto come scelta il calcio femminile proprio, non come ripiego, perché era una da ripiedere dall'altra parte, No, no, no. Che so che invece ogni tanto, può succedere questa cosa qua, Esatto, dico, magari mi lancio sul femminile, perché, no, ho fatto proprio come scelta, come ho detto poco fa, perché si fosse collegato da poco, è proprio come scelta, perché io oggi ho giocato fin da piccola, e fin dai miei primi passi, ai 40 anni, ho sempre giocato con i maschi, quindi devono avere anche loro la loro scuola calcio. E quindi la scuola calcio femminile servono, e appunto, Mister Gio ci prova, e ci continua, continua a provarci, lo fa anche, perché non è solo tentativi, perché poi i risultati arrivano, meglio sarebbe, se arriva, so ancora meglio, e più alti risultati, ma insomma, ci stiamo lavorando. Rick James con Super Freak, alle 8 e 47 minuti, qui su Crystal Radio, Good Morning Milano, e per niente Freak, anzi, ben concentrate sull'obiettivo, sono le bimbe nel pallone, e la nostra Mister Gio, Gio Anna Borella, che è qui con noi, che ci sta raccontando appunto, stavo dicendo che, tutta questa storia appunto, la si può trovare in un libro, che si può trovare dove, che magari, insomma, così si avvicina al Natale, uno... Esatto, sì, la trovi su Amazon, la trovi da Mondadori, in tutte le librerie, tranquillamente, anche al libraccio, per chi sta in Viale Monza, in zona Nollo, lo troverete anche lì. Le ragazze di Mister Gio, giusto? Ok. Mondadori ragazzi, la casa di editrice. E, visto che si sta vincendo Natale, parliamo anche di panettone, in che senso? Perché l'anno scorso, ti hanno dato un panettone prezioso, ti hanno dato un prezioso panettone, raccontaci. E ho ricevuto, il panettone d'oro, un riconoscimento alle virtù civiche, quindi, come dicevai proprio tu prima, la domanda, ma lo faccio così, di ripiego questo lavoro? No, perché proprio, come passione, e quindi sono stata felice, di essere stata riconosciuta, proprio per il mio impegno, la volontà di fare questa cosa molto importante. Sì, c'è Serie A, abbiamo l'Inter e Milan, che è molto bello, nel senso, che fanno vedere il calcio alle ragazze, gratuito, finalmente all'arena, una cosa che io penso che sul maschile non l'ho mai vista. Infatti, insomma, avete sempre tanto da insegnarci, avete sempre tanto da insegnarci, voi donne, c'è poco da fare. Però, se è bello che esista appunto quello, deve essere altrettanto bello, e anzi, forse ancora più importante, che esista invece lo step precedente, cioè il fatto che appunto, una bambina di 5-6 anni, possa dire, sai che c'è mamma, voglio andare a giocare a calcio, e possa uscire di casa, prendere la prima strada che trova, trovare la prima società, e andarci a giocare. Esatto, e soprattutto, che, come dicevi tu, una bimba anche di 3 anni, non possa avere subito già un rifiuto, che ovviamente, parliamo di rifiuti, possono aiutare a crescere, ma qui si parla di un rifiuto, che non deve essere un rifiuto, deve essere un'accoglienza, quindi bimba nel pallone, accoglie soprattutto, anche durante la stagione iniziata, tante volte capita, ma mamma voglio iscrivermi a pattinaggio, no guardi signora, il corso è pieno, quando poi invece, possibilità di applicare i corsi, li hanno, invece è proprio una questione, di accogliere, il bimba nel pallone, le porte sono sempre aperte, esatto, sono sempre aperte, per chi ha sempre voluto giocare, chi avrebbe voluto, ma non ha potuto, e chi vuole giocare. Anche me ricordiamo appunto, che parliamo davvero, adesso parlavamo di bambini di 3, 4, 5 anni, ma anche se avete 45, 55 anni, e le gambe vi regolano, come dice appunto il mister Joe, c'è un posto per voi. Esatto, assolutamente, che è proprio il corso di mamme, donne, adulte, che è un momento di aggregazione, dico io proprio, a posto di andare, che ne so, in palestra, senza nulla togliere alle palestre, si fa aggregazione, su un punto importante, ecco, se non c'è la palla. Ma siamo pronti, noi maschietti, noi mariti, a dover dire, aspetta, devo mangiare presto oggi, perché poi, mia moglie deve uscire, che ha il calcetto, questa sera. Non lo so, ancora no, perché, quest'anno, fa un po' più fatica, a partire il corso, perché, magari, le risposte sono, no, devo organizzarmi, coi figli, io proprio anche questo, il corso di mamme, è una battuta cattiva, questi figli che sembrano tutti orfani, a un certo punto, si capisce com'è che, non c'hanno mai l'altro genitore, mi spiegherà, cioè non c'hanno mai l'altro genitore, non si capisce, o c'ha il calcetto e il pilates, infatti, non si capisce mai questi figli, perché devono sempre essere, esatto, un'altra cosa, proprio di questo corso, mamme, donne, adulte, è, di, fare al contrario, quindi, la mamma, che esce con la borsa da calcetto, e dice, ciao bello, io vado a giocare a calcetto, e il marito disperato, mentre sta dando la pappa, cambiando pannolini, in più lei dice, torna dietro un passettino, e gli dice, guarda che c'è anche la birra, ci beviamo una birra, e poi arrivo. Ecco, c'è anche il terzo tempo, come si dice in questi casi, beh, insomma, però sarebbe, se no, trovate il modo, trovate la stessa sera, andate, il bambino lo fate a mini basket, voi andate a giocare a padel, e la vostra moglie va a giocare a calcio, con il pallone, direi che è perfetto, fate la serata sportiva, così tutti possono trovare il modo, no, effettivamente c'è anche questo scoglio, che è molto interessante, e chissà cosa hai visto tu in questi anni, non voglio neanche immaginare. Di tutto, di più, poi ad esempio, un'altra situazione bella, nuova di adesso, una mamma, che se ne avrà 43, tanto, e mi dice, ma sono un po' indecisa, se giocare con questa squadra, delle games, perché sai, un torneo, gli ho detto, guarda, io da mister, secondo me ce la puoi fare, però ovviamente, non voglio obbligarti, e quando lei è tornata a casa, i figli gli hanno detto, che giocano a calcio, mamma, o lo fai adesso, o non lo fai più. Vedi, 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 i primi endorsement arrivano, i primi fan, ovviamente sono i propri figli, quindi vedete anche quest'ottica, e poi posso aggiungere, è anche un insegnamento molto importante, per i propri figli, fa capire che, a qualsiasi età, anche a 43 anni, anche a 50 anni, insomma, se hai una passione, che ovviamente non credo che lei voglia, questa ragazza di cui parlavamo, non è che voglia diventare professionista, o cosa, ha semplicemente voglia di giocare a pallone, giocare, perché no? e gioco anch'io, che ne ho ancora 58, eh, insomma, tu sei mister, tu sei mister Joe, cioè, tu sei avvantaggiata in questo caso, Giovanna, grazie mille di essere stata qui con noi questa mattina, di cuore a tutti voi, è sempre bello vederti qui, mi raccomando, portaci tutti gli vari aggiornamenti, sul tuo cercare, pergrinare, ma poi è bello quello, che trovi uno spazio, a quel punto, quando l'hai trovato, ti inventi qualcosa di nuovo, perché poi anche questo con te è il problema, Cioè, che ti inventi ogni tre per due qualcosa di nuovo, esatto, assolutamente, quindi devo stare attenti, ci sarà una novità, chi lo sa, ecco, allora rimaniamo collegati, Giovanna Borella, seguitela, cercatela sui social, è presente, seguite appunto anche le bimbe nel pallone, se passate da Nolo, fate un fischio, tanto la trovate sicuramente da quelle parti lì, che passa di qui o di là, e davvero, sono quelle storie belle, che Milano ci piace seguire, che Milano ci regala tutti i giorni, quindi, grazie Giovanna, grazie a voi di tutti di cuore, buon ascolto, e porta un saluto appunto, a tutte le bimbe nel pallone, e adesso per noi non rimane che dire, sigla!